Ragioneremo su quello che i fondi interprofessionali possono fare per diffondere la formazione, il concetto di innovazione tecnologica, il know-how sull'innovazione tecnologica, il know-how sull'innovazione digitale, fondi impresa da ormai 10 anni, tutti gli anni pubblica un bando che ha una dotazione intorno ai 10-15 milioni annui, perché l'obiettivo è proprio far sì che questa cultura dell'innovazione tecnologica si possa diffondere sempre più, perché è chiaro che non basta comprare un software di ultima generazione, non basta comprare un torno di ultima generazione, occorre anche che tutto il personale, non solo le persone più specificamente destinate all'utilizzo di quell'apparecchio, ne abbiano una piena contezza. Oggi poi con 4.0, oggi poi con l'apporto dell'intelligenza artificiale, tutte queste cose stanno diventando realtà quotidiana nella vita delle imprese. Il nostro compito è agevolare il più possibile, come se fossimo un po' il cane pastore dell'innovazione tecnologica, che accompagna le aziende in questa logica, in questo salto, perché sono transizioni complesse, la transizione sull'innovazione digitale, la transizione anche sull'innovazione green e sulla cultura ambientale.